...diciamo a accendere il lungo testo, quindi Pulse Force Fiscale, lo sappiamo. Però ecco, questo pezzettino scheletrico, certo, però in sé compiuto, ha un carattere decisamente scherzoso, diciamo, decisamente leggero. E poi qui possiamo scegliere, oppure, e poi con il legno possiamo ricominciare. ...diciamo che è un brano di musica che si tratta insieme, sta in piedi, ha una sua definizione, sappiamo che cosa Puccini ha fatto, nel senso che quello riprende, lo riprende nel terzo quadro, da dove interviene Rodolfo a raccontare della malattia di Dini.